Il sindaco Renzi ha parlato di ricambio generazionale to court nel PD, è soltanto una provocazione? No, in realtà l'importante è che la generazione che si affaccia sappia svolgere il proprio ruolo, cioè abbia la capacità di individuare i temi più urgenti, abbia la forza di svilupparli e abbia anche la voglia di aggregare un po' di persone che sono quelle che mancano alla politica. I giovani sono precari nel lavoro e precari anche nelle scelte politiche, spesso si buttano dalle mie parti sulla Lega, anche qui un pochino. C'è Grillo che attira, noi dobbiamo sapere rispondere con la politica di qualità e magari andandogli ad ascoltare, per cui insomma abbiamo dei compiti precisi, credo che questo sia il messaggio più bello della provocazione di Matteo. Bersani, il segretario Bersani ha lanciato un nuovo Olivo, oggi Rosi Binti parla di alleanze possibili anche con il movimento di Fini. L'elettore magari è un po' in confusione. Io adesso faccio il burocrate a sorpresa e dico che vorrei fare una direzione nazionale, però perché c'è una crisi di governo, sono due mesi che ne diciamo un po' di tutti i colori, da Tremonti Premier a elezioni subito, alle coalizioni più diverse, forse se trovassimo una sede per discutere in una giornata, io sono un po' traumatizzato da queste dichiarazioni personalmente, come elettore, non come Polinon, lo dico contro Rosi Binti, lo dico da Pippo Civati, elettore di Monza, insomma mi sembra un po' impegnativa come uscita, anche perché stavamo invece ragionando sulla necessità di estendere il nostro schema classico iniziando da un'interlocuzione con Casini, che già per certi versi è bella tosta come prospettiva, per cui cerchiamo di fare meno confusione, di essere più rigorosi e facciamo parlare Bersani, che poverino, lui lunedì mattina si trova all'intervista di D'Alema, il martedì c'è la lettera di Veltroni, il mercoledì Letta che se ne inventa una ogni settimana, il giovedì Labindi, noi il venerdì Civati sta zitto, non dice niente, promesso. Il tema del dibattito di stasera a cui parteciperà è la crisi del lavoro, abbiamo un ministero dello sviluppo economico vacante da mesi, oggi è uscito il dato che ci sono 60% di ore di cassa integrazione in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lavoratore cassa integrato che appena presso il lavoro, come guarda domani? Non lo vede, infatti la cosa più grave della finanziaria fatta proprio da quel Tremonti che noi non dobbiamo voler vedere Premier, è che non c'è una parola sul futuro, non c'è l'investimento per le economie di qualità, per gli imprenditori che sono capaci di farlo, non c'è un pensiero né una iniziativa per i precari, spero che la Regione Emilia qualcosa possa fare, in questo senso dove governiamo, dare anche l'idea che non ci sono solo i lavoratori dipendenti da aiutare ma anche famiglie e giovani precari che sono veramente in difficoltà. Quindi io ho l'impressione che il domani non esiste, questo è il tema per cui anche torniamo a Renzi, l'obiettivo non è soltanto quello di ritornare sugli ultimi 15 anni autocriticamente, recuperando, è anche raccontare i prossimi di anni con soluzioni che spesso sono banali ma che bisogna poi finanziare, ordinare e spiegare ai cittadini che ci deve essere un criterio per tutti, dai 3 ai 90 anni, anzi forse dagli 0 ai 90 anni perché poi c'è anche la questione degli asili che c'entra con il lavoro, c'entra con il welfare, c'entra con le urgenze delle famiglie italiane.